Da un po' di tempo manca nelle farmacie e non si riesce a trovare l'antibiotico Zitromax. Chiediamo al dottor Massimo Lilli, direttore della farmacia comunale di Ceciliano, perché? A che cosa serve lo Zitromax intanto? È un antibiotico per le prime vie aeree, quindi bronchiti, polmoniti, mal di gola, il classico mal di gola, tonsilliti, cose di questo genere. Come mai è sparito in concomitanza con le cure a casa del Covid? Molto probabilmente, è che manca anche lo sciroppo, in genere si dà solo su prescrizione medica, per cui i bambini sono stati meno colpiti, quello mi rimane ancora un po' ignota come causa. Le compresse ovviamente su insistenza anche degli adulti che si sono ammalati, c'è proprio una carenza di produzione a fronte della ricerca. Siete riusciti voi a ritrovarli un po' di quelli per adulti? Sì, appunto, un pochino, molto meno rispetto a prima, che era una cosa quotidiana, l'approvvigionamento era quotidiano, ora un po' più, con più di difficoltà. Sento dottore, gli antibiotici non vanno però presi alla leggera? No, 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 infatti, solo su ricerca medica, ovviamente, per quanto riguarda noi, e in generale solo quando ce n'è bisogno, ecco.